voilà tutto pronto si gira ufficio rustic solutions e partiamo ciao a tutti ragazzi ben ritrovati a una nuova puntata oggi mi ritrovo al monte barro esattamente siamo sul sentiero il bisabosa che uno veramente vicino a casa mia sono in giro con la mia habit canando questi sono i sentieri vediamo un po se siamo ancora capaci ad andare in bici dopo veramente tanto tanto tempo non 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 Grazie a tutti. Ragazzi, si inizia bene questa quarantena. Primo giro dopo due mesi. Ecco, questa qua è stata la situazione attuale dei singoli italiani per questa quarantena oppure per chi vive le relazioni a distanza. Ragazzi, vi assicuro che è stato tutto assolutamente casuale. Ho finito il bisabosa con la mia mascherina eccetera eccetera. Ho incontrato il buon Ale che aveva bucato e gli ho semplicemente dato una mano. Quindi nulla di premeditato, guardie di finanza, carabinieri, polizia, non arrestatemi perché semplicemente ho dato una mano a un ragazzo che ho trovato casualmente in giro.